La prima domanda che volevo farle è che contributo può portare il rapporto tra le imprese cinesi e quelle italiane? Che cosa può portare questo rapporto a voi e che cosa può portare alle imprese lombarde? Allora, io credo che non si può dire contributo, perché la cooperazione è basata sul principio di vantaggi e trambi, quindi sulla armonia, sulla comprensione, quindi il che arricchirà a tutti e due paesi, a tutti e due partner, e reciprocamente è una cooperazione. Il modello di business della Cina e delle imprese cinesi si è dimostrato vincente. Il prodotto interno lordo, il PIL, la ricchezza nazionale cinese, ha dimostrato di essere la più forte in questo momento nel mondo. Diciamo di sì, perché la Cina con 40 anni di riforma, di apertura, da sempre, quindi questa procedura ha reso le imprese tinesi più compatibili, nel mercato. Questo è vero. L'ultima domanda, last question. Quale valore aggiunto trovate nella nostra regione? Cioè, che cosa trovate di interessante qui, in questa regione? Allora, ce ne sono tante cose. Cioè, Italia è un paese dove c'è tante cose molto belle, nell'agricoltura, ce l'avete il vostro cibo, diciamo, molto buono. C'è il sistema produttivo, il manifatturiero, è quasi leader del mondo. Poi, in tanti settori ce l'avete tante cose buone. è importante, basta che abbinare quelle cose buone, quelle cinese e italiane, abbinare insieme, si crea un figlio, si nasce da dove si nasce un figlio, buono e sano. Grazie molto. Grazie. Grazie.